registriamo questo vlog numero 21 e poi me ne vado a mangiare in questo video volevo dire tantissime cose però non le dirò dirò che sono stressatissimo e che ho l'allergia perchè il periodo è quello dell'allergia e dirò che va bene tutte queste bellissime aspettative lo spettacolo sarà meraviglioso, memorabile ma voi non avete idea del retroscena che ci sono quando si porta avanti un progetto così sentito bisogna fare i conti con tantissime gatte da pelare però sono felice perchè so che il pubblico risponderà bene e che sarete entusiasti di questo spettacolo che debutterà tra pochissime domeniche questa è l'ultima domenica prima dello spettacolo che debutterà il sabato prossimo a scenario pubblico vado a cena, ciao